Attendono ancora i buoni pasti, circa 260 dipendenti dell'ex provincia di Caltanissetta, oggi libero consorzio comunale, che prestano servizio su cinque giorni con un rientro pomeridiano. Ogni dipendente infatti vanta una somma pari a circa 450 euro. Stanchi di non ricevere risposte dall'ente, 30 di questi lavoratori si sono rivolti al segretario generale della funzione pubblica della CISL, Gianfranco Di Maria, che ha così mandato un atto di diffide e messo in mora al commissario straordinario Rosalba Panvini. Noi vogliamo riconosciuto e dando un diritto. Questi buoni pasto sono in credito da quasi due anni. Abbiamo aspettato fino ad oggi perché ci siamo resi conto che l'ente non aveva le risorse. Invece abbiamo deciso di fare l'atto di diffida con l'ufficio vertenza della CISL, quindi con l'avvocato in baglione, perché in una riunione sindacale la dirigenza, uno dei dirigenti, ci ha detto che questi soldi li avevamo persi, li avevamo persi come personale. E a noi sembra assolutamente ingiusto perché il personale in servizio già ha avuto ridotto i giorni di rientro per i quali c'è il buono pasto e soprattutto per i quali si dà un servizio. Noi eravamo già contrari a ridurre da due a uno il giorno di rientro, torno a dire perché di pomeriggio riteniamo che gli uffici possano essere più a disposizione del cittadino. Il cittadino quando c'è il lavoro di mattina lavora, quando non c'è il lavoro è inutile che valla alla provincia, se non per l'assistenza ai portatori di handicap. Quindi c'è un solo rientro pomeridiano. Per quel rientro il dipendente ha diritto al buono pasto, che non gli viene corrisposto è un problema di carattere economico. Ma se gli si nega il diritto diventa un problema di carattere sindacale e di riconoscere quello che è una giusta ricombenza per la pausa pranzo. Parliamo di 7 euro a buono pasto, non stiamo parlando di 70 euro un pranzo completo. Con 7 euro è possibile fare uno spuntino.